Allora amo, devi far diventare questa stella senza toccare i suzzicadenti, questa stella da otto punte a quattro punte, senza toccarli. Senza toccarli? Sì. Cazzo dici? Non posso toccarli? No. Ne fisicamente, ne mentalmente? No. No, mentalmente sì, se riesci. Con la falsa del pensiero. L'ha detto a quante? A quattro. E quante è la scuola adesso? Otto. Uno, due, tre. Ah, ma sono otto, si vede? Non sa che conti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, sette. Ah, ma si vede a occhio che sono otto. Dai. Vai, quindi come si fa? Eh. Dovrò soffiare. Se non posso toccarle. Però devono diventare? Quattro. Vedi, li soffio via. No, non è la soluzione giusta. Perché no? Se li soffio via. Come fai? Li soffi tutti se soffi. Non come fai diventare quattro. Ah, ma non è la soluzione, ritroviamo un'altra. Ecco. Allora, guarda. Stai, inquadra tu che non riesco, Sero. L'hai toccato? Lo sei toccando? Sì, io sto sistemando. Eh, grazie a casa. Sto sistemando. Io sto sistemando. Diego, viene a vedere la mamma che fa la magia. Sì, funziona. Aspetta. Vieni, vieni, vieni. Guarda, guarda. Guarda, guarda. 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 Mi sa che li hai toccati tutti. Aspetta. È rimasta un po' d'acqua. Aspetta. Rifacciamo. Guarda. Usa un'altra tecnica. Allora. Sai cosa sto facendo, Diego? L'esperimento. Ah, non deve muovere quelli senza collo. Sì, sì. Guarda, addirittura prende le stuzzicadenti e muovere. E si sono bagnati. Cadono stuzzicadenti e vedi al cielo. Allora, guarda. Guarda. Sì, guarda. Visiona bene. Che poi vuole guadagnare un casino di soldi facendo questa cosa. Pensa che dovevo farlo io e lo sto facendo. Non è capace neanche lei. Aspetta. Pronto, hai contato? Ma che sei soffiavo? Sei soffiavo? La centesima volta. Eh, la centesima adesso. Non vale, stai usando il bicchiere di Star Wars. Che la forza sia con te. Beh, perché qua la gente non vede. Vai, vai. Vado a che cosa? Che mi hai fatto questo? Sì, io ti ho fatto sbagliare di nuovo. Io ti ho fatto sbagliare. 20 milioni a stuzzicadenti. Questi qua li buttiamo tutti. Vado a asciugare. Vado a stendere fuori, Diego. La tecnica, che casino. Ha perché un papua? Sì, va bene, dai. Asciuga bene il piano di lavoro. Diego, lei cosa ne pensa di questo video? Niente. Oh, dove vai? Tanto non so se le sentite voi. Se le sento il Francesco russare sul divano. Francesco è clopata. Che russo non c'è. Vado. Aspetta, dove vai? Silenzio, eh. Dai, amo. Dai, amo. Non ti ho riempito toccato. Dai, amo. Bello. Molto bello. E cosa dobbiamo uscire? Un fiore. Un fiore. Poi da lì lasceva. C'era praticamente. Venivano fuori sulla pianta. E poi ce ne si apriva. Va bene, basta. Ci ha costato. Adesso abbiamo fatto 20 mila ore di... La gente è arrivata fino ad Erquo. E noi gli diamo una salute. Abbiamo perso un po' di samurai. Caduti in battaglia. Ha negati in battaglia. Ho pure fatto finta di voler bere. Non so se hai notato. Sì, sì. Per far fare un oscialazzo. Per provare un po' d'acqua. Naturale. Naturale.